Tinder e sorpresa Malena La Pugliese, vieni alle Iene, 2 aprile 2019, proprio questa stupenda e magnifica pornostar italiana è stata, diciamo così, la protagonista di quel piacevole servizio. Un format ormai così può essere definito, quello che ha creato la bellissima e bravissima Mary Sarnataro, la Iena italiana, la quale appunto va a far iscrivere al Tinder la famosa app di incontri donne famose per far sì che ci siano poi gli incontri. Ovviamente però nel momento in cui iscrive queste donne belle, simpatiche e famose su Tinder, stravolge, quindi diversifica i loro nomi, quindi il loro nome e scatta delle foto diverse a fine di non renderle riconoscibili. Ed ecco che anche in questo caso Malena accetta di buon grado di fare questo esperimento, incontrerà tre baldigiovani, un timidone, un uomo timido, un uomo bodybuilder, nel senso che ha dei bellissimi muscoli, e un uomo un pochino più spregiudicato che amerebbe riccare la patatina. Insomma, tre uomini in piena regola, ripeto, le reazioni saranno le più diverse, le più disparate, simpatiche, in una addirittura Malena mangia una banana che fa mangiare anche all'uomo, in un altro caso, credo con il bodybuilder, Malena appunto gli fa indossare dei guanti, si incerofana tutta e si mette una mascherina al volto. E poi qualche altro, poi il terzo personaggio, che in qualche modo, in qualche maniera, rimane piuttosto timido, infatti non spiascica una parola dinanzi a Malena. E' il primo, c'è questo qua. Beh, vi ringrazio per l'ascolto, dunque questo format sembra piacere ai spettatori di Italiano Ligiene, Mary Sarnata ora ha creato davvero un format in dare sorpresa molto simpatico, divertente e piacevole. Grazie a tutti, salutoni al prossimo video dal narratore italiano.